Noi parliamo delle dimore storiche in questo caso, parliamo dei beni immateriali più importanti e più imponenti che possono esserci nel nostro patrimonio economico valoriale d'Italia, ma non solo, del mondo, d'Europa. In questo caso perché creare degli eventi alla Camera o al Senato per ufficialmente dare sostegno, istituzionalmente dare sostegno, non solo con le leggi che sono fondamentali, con i correttivi che sono fondamentali, ma anche creando un megafono, perché tutte queste persone hanno riqualificato il loro patrimonio, sono stati incentivati a riqualificarlo, oggi stanno creando degli archivi, creare addirittura un polo privato di conservazione e di studio che possa essere fruito, utilizzato e rimesso in un circuito chiaramente di patrimonio industriale, perché tutto ciò che noi stiamo tentando di mettere in campo sono leggi che portano ad avere i cammini religiosi e a conoscere quindi quali sono i nostri percorsi con leggi dello Stato, è la prima volta, finanziati non solo dal Ministero della Cultura, ma anche dal Ministero del Turismo, perché cultura, cultura immobiliare, patrimoniale, religiosa vuol dire turismo, vuol dire movimentazione di un'industria, della cultura, della cultura materiale e immateriale che porta a far vivere le nostre botteghe artigiane, a far vivere i nostri B&B, i nostri alberghi, tutti i nostri esercizi di vicinato, a far rivivere destagionalizzando soprattutto, che chi ha la fortuna di avere dei territori sul mare vive d'estate, ma deve vivere anche d'inverno, i nostri borghi rurali vengono portati a una visione differente, queste non sono banali interpretazioni di eventi che servono per comunicare che un'associazione sta facendo qualcosa, qui c'è il vero patrimonio industriale, culturale, visivo della nostra nazione.